Salve supplium, e postorti stanium, vide conferpremium, Fitto Maria. Rosarii Beate Marie Virginis, Misteria Doloris. Dios in adiatorio meum intende. Gloria a Padre, et Filio, et Spiritus Sancto. Primo Mysterium, Jesus in Horto Getsemaní Orat. Vino Jesús a un huerto llamado Getsemaní y dijo, Abba Padre, aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Maria, Sves Nostra, Maria, Sves Nostra. Pato Nostra, que es in Cielis, Sanctificito Nomen Tum, advenia drenium Tum, fiat voluntas tua sicut in Cielo et in Terra. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum benedicta et un mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Sancta Maria, Madre de Dei, ora por nos, Pertoribus, nunc et in hora mortis Nostra. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum benedicta et un mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum benedicta et un mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum benedicta et un mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Sancta Maria, Madre de Dei, ora por nos, Pertoribus, nunc et in hora mortis Nostra. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum benedicta et un mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum benedicta et un mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora con i nostri peccatori, learning会 jouce criatura in noi mostriamo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta et in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu è di Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora con i nostri peccatori, learning会 jouce il naive47 anche腳 In stage delongo, 類 mentis Närlinghi faciliare. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicti et in mulieribus, ent he benedictus fructus ventris, tu è di Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominos tecum, benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Gloria, Patria e Filio e Spiritui Santo. Secondo misterio, Jesus flacelis ceditur. Entonces Pilato entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Maria, grazia plena, Maria, grazia plena, Maria, grazia plena, Maria, grazia plena, gloria, Maria, grazia plena, Dominos tecum, benedicta tu. e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta e Tumulieribus, benedicta e Tumulieribus, benedicta e Tumulieribus, benedicta e Tumulieribus, benedicta e Tumulieribus. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta e Tumulieribus, benedicta e Tumulieribus, benedicta e Tumulieribus, benedicta e Tumulieribus, benedicta e Tumulieribus. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta e Tumulieribus, 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 benedicta e Ave Maria, grazia plena dominus tecum benedicta e tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena dominus tecum benedicta e tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena dominus tecum benedicta e tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena dominus tecum benedicta e tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena dominus tecum benedicta e tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Il terzo mistero, Gesù è il coronatore. Il terzo mistero, Gesù è il coronatore, Gesù è il coronatore. Il terzo mistero, Gesù è il coronatore, Gesù è il coronatore, Gesù è il coronatore. Il terzo mistero, Gesù è il coronatore, Gesù è il coronatore, Gesù è il coronatore. Il terzo mistero, Gesù è il coronatore, Gesù è il coronatore, Gesù è il coronatore. Il terzo mistero, Gesù è il coronatore, Gesù è il coronatore, Gesù è il coronatore. Il terzo mistero, Gesù è il coronatore, Gesù è il coronatore, Gesù è il coronatore. Gesù è il coronatore, 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 Gesù è il coronatore Glorie a Patria e Filio e Spirito e Sancto. Quarto misterio. Jesus cruce honoratus calvarie locum adit. Tomaron a Jesús y él cargando con la cruz salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Golgotha, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Maria spes nostra, Maria fax nostra. Patro nostre ques in cielis, sanctificito nomen tum, ad venia de regnum tum, fiat voluntas tua secut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta et un mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre de Dei, ora pro nosis pecadorus, nunc et in hora mortis nostre mani. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta et un mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre de Dei, ora pro nosis pecadorus, nunc et in hora mortis nostre mani. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta et un mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre de Dei, ora pro nosis pecadorus, nunc et in hora mortis nostre mani. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta et un mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre de Dei, ora pro nosis pecadorus, nunc et in hora mortis nostre mani. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta et un mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre de Dei, ora pro nosis pecadorus, nunc et in hora mortis nostre mani. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta et un mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedicta e tun mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedicta e tun mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum benedicta e tun mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum benedicta et tun mulieribus ed benedictus fructus ventris tui Iesus gloria a Patria et Filio et Spiritus Sancto era todavía la hora tercia quando le crucificaron llegada la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona a la hora nona Iesus, lanzando un fuerte grito, expirò Maria, Pes Nostra Maria, Pes Nostra Patro Nostra, quies in celis Sanctificito Nomen Tum ad venia de regnum Tum fiat voluntas tua secut in cielo et en terra Ave Maria, Grazia plena Dominus Tecum benedictus fructus ventris tui Iesus Santa Maria, Pes Nostra, quies in celis Santa Maria, Pes Nostra, quies in celis Santa Maria, Pes Nostra, quies in celis Ave Maria, Pes Nostra, quies in celis Ave Maria, Grazia plena Dominus Tecum benedictus fructus ventris tui Iesus Ave Maria, Pes Nostra, quies in celis Ave Maria, Grazia plena Dominus Tecum benedictus fructus ventris tui Iesus Ave Maria, Grazia plena Dominus Tecum benedictus fructus ventris tui Iesus Ave Maria, Pes Nostra, quies in celis Ave Maria, Grazia plena Dominus Tecum benedictus fructus ventris tui Iesus Ave Maria, Pes Nostra, quies in celis 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 Sancta Dei Cenitrix, Sancta Virgo Virginum, Mata Christi, Mata Ecclesiae, Mata Divinae Grazie, Mata Purissima, Mata Castissima, Mata Inviolata, Mata Intemarata, Mata Amabilis, Mata Admirabilis, Mata Boni Consilii, Mata Creatores, Mata Salvatores, Virgo Prudentissima, Virgo Veneranda, Virgo Predicanda, Virgo Potens, Virgo Clemens, Virgo Fidelis, Speculum Justitiae, Sede Sapientiae, Causa Nostrae Laetitiae, Vas Spirituale, Vas Honorabile, Vas Insigne Devotionis, Rosa Mystica, Turis Davidica, Turis Iburnia, Domus Aurea, Pöderis Arca, Janua Celi, Stella Matutina, Salus Infirmorum, Refugium Peccatorum, Consolatrix Afflictorum, Auxilium Christianorum, Reggina Angelorum, Reggina Patriarcharum, Reggina Profetarum, Reggina Apostolorum, Reggina Martyrum, Reggina Confessorum, Reggina Virginum, Reggina Sanctorum Omnium, Reggina Sine Labi Originali Concepta, Reggina Sanctorum, Reggina Sancta, Reggina Sacratissime Rosarii, Reggina Familie, Reggina Pacis, Agnus Dei Qui Tollis Peccata Mondi, Agnus Dei Qui Tollis Peccata Mondi, Agnus Dei Qui Tollis Peccata Mondi, Miserive Nostra, Ora, pro nobis Sancta Dei Genitrix, Oremos, Deus, quius Unigenitus per vita, morte e resurrektionem Suam, nobis salutis etterne premia comparavit, concedi quesmus, ut hec mysteria, Sanctissimo Beate Maria Virginis Rosario Recolentes, et imitimo quod continent, et quod promittunt, assequamur per Christum Dominum Nostrum. Amen. Dominus vobis cum, etus spiritu tuo, sit nomen Domini Benedictum, etus nomum Jesus tu in securum, adjutorium nostrum in nomine Domini, qui fesit genum et hera, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Salve Regina, Pater Misericordiae, in ta dulce do, est es nostra salve, a te clamamus, es un es fie, a te suspiramus, genentes efflentes, in ac lacrimarum vale, eia ego, advocata nostra, e los tuos misericordes oculos, adnos converte, en Jesu, en Egitum, fructum en Christu is, na pis, posto che siliu, ostende, o clemenc, o glia, 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 o glia,